Matteo Brunori, a Pescara, quello di Pescara può essere davvero l'anno della tua definitiva consagrazione nel calcio italiano? Lo spero, io sono venuto con la testa giusta e è quello che voglio, quindi quello che hai detto è spero che si realizzi. Arrivi dall'Arezzo lo scorso anno, tanti gol con la formazione toscana, tanti gol da prima punta a Pescara. Ovviamente preferiresti giocare in questo ruolo? Sì, l'anno scorso ho fatto sia la prima che la seconda punta, perché giocavamo con due punti e un trequartista. Sono venuto qua con l'idea di giocare davanti, però è normale che io faccio quello che mi chiede il mister, quindi mi metto a disposizione, poi è il mister che fa delle scelte, sa benissimo il mio ruolo, quindi non è quello. Quando hai giocato da prima punta nella gara con il Pordenone nella seconda parte di partita con i Frulani, hai reso al meglio e hai sfiorato anche il gol? Sì, nel senso è il mio ruolo, ho fatto sempre quello. È normale che poi durante il campionato più ruoli sai fare, magari meglio è, quindi io cerco di fare il meglio anche quando il mister mi chiede di fare l'esterno, quindi va bene. Parliamo di questa partita di Cosenza, dopo la sosta si torna in campo in casa di una squadra che è reduce prima della sosta, era reduce dalla sconfitta con la Salernitana. Sì, sì, è un campo assolutamente difficile, quindi noi lo sappiamo, ci stiamo allenando bene per affrontare questa partita. Sono partite che cominciano ad essere importanti, anche perché la sosta non è mai una cosa bella, quando si ricomincia, quindi bisogna andare giù con la testa giusta. Occorrerà giocare con lo stesso spirito visto in campo nel match col Pordenone? Assolutamente, è quello che ti porta a portare a casa i tre punti, abbiamo fatto una partita veramente di sacrificio, anche quando c'era bisogno di soffrire, quindi bisogna andare giù con la stessa testa. A Cosenza troverete un ambiente caldo e una squadra che predilige giocare anche un po' dal punto di vista fisico, dell'aggressività? Sì, sì, noi lo sappiamo, bisogna ambientarci subito, il prima possibile e se c'è bisogno di fare che la gara ci chiedi di fare un gioco anche più fisico, bisogna essere preparati a fare quello. Dicevamo Matteo, una stagione che potrebbe essere importante per la tua carriera, cosa ti aspetti da questo anno a Pescara e cosa speri per il Pescara, gli obiettivi? Gli obiettivi ce li creiamo penso da soli, quindi se noi vogliamo veramente portare qualcosa di importante a casa bisogna allenarci come ci alleniamo, poi penso che tutti vogliamo un qualcosa di grande, quindi ce lo guadagniamo da soli. Da qualche tempo, da qualche mese a Pescara che ambiente hai trovato, che città, che spogliatoio e anche due parole sul tecnico Zauri? Sì, lo spogliatoio come ho detto prima mi ha accolto subito molto bene, quindi poi sta a me farmi voler bene, però ti dico la città è molto bella, ho trovato subito, si sta bene, quindi sono arrivato con la mia famiglia, ho trovato subito casa, molto bene.